Sulla rinnovata proposta di spostare la Corte d'Appello a Pescara parla di Binario Morto, il presidente dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila, Maurizio Capri. Non è una questione politica né di campanilismo, dice Capri, ma di trovarsi in linea con i tempi. Seppur si tratti di una sezione distaccata o una soluzione del genere, mi pare che non abbia ragione di essere. L'ho già dichiarato in altre sedi, è una proposta anacronistica, cioè in un tempo così difficile per la giustizia italiana, dove peraltro la pandemia ha aggravato anche notevolmente i problemi per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dei cittadini, oggi riproporre una situazione di questo tipo è molto anacronistico. Peraltro con le norme introdotte dalle recenti norme anti-Covid, ormai lo spostamento degli Avvocati e dei cittadini è ridotto al minimo. Qui in Corte d'Appello le odienze si tengono tutte da remoto, telematicamente, quindi con la digitalizzazione non c'è neanche più la presenza dei cittadini. Quindi non si capisce proprio in questo particolare momento storico riproporre una norma di questo tipo. In più c'è una battaglia in essere che si sta facendo sempre a Roma per quanto riguarda la permanenza dei tribunali minori, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, dove abbiamo già visto che in questi giorni si sono avute delle difficoltà in Parlamento perché gli emendamenti non sono stati portati avanti dal Parlamento. e introdurre a gamba tesa una situazione di questo tipo secondo me va a peggiorare anche quell'altra battaglia che si sta facendo tra mille difficoltà. Quindi noi rischiamo non solo di non ottenere questa sezione di staccata a Pescara ma rischiamo addirittura di danneggiare se vogliamo anche quella battaglia che si sta facendo in Abruzzo per mantenere i quattro tribunali minori.